Fra i tanti problemi che si ritrova il capologo Dauno ecco apparire la questione del canile municipale di via Manfredonia, salita alla ribalta della cronaca per la presenza massicce di topi di fogna che sostituiscono gli amici degli uomini e il rischio che possono trasmettere infezioni molto gravi per la salute, viverci o lavorarci a stretto contatto è altamente sconsigliato. Se a questo si aggiunge che si sospette che alcuni cani sono morti a cause dell'alepto Spirosi, riesce difficile comprendere com'è possibile che Asle e Sindaco non siano ancora intervenuti per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei cani ospitati. Normalmente sarebbe dovuto bastare anche solo una delle criticità elencate per mettere in dubbio la possibilità di continuare a tenere aperta la struttura comunale, ma nonostante ciò il canile continua ad essere aperto senza neanche intervenire per renderlo sicuro. Sarebbe il caso di ricordare al Sindaco che è la massima autorità sanitaria in città, l'articolo 32 della Costituzione italiana, nella parte in cui si dice la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Ed allora, vogliamo intervenire?